A mio modo di vedere, uno schema mentale preconcetto da parte dei colleghi dell'ignoranza porta discorsi indipinatori ed è per questo che il pubblico, ecco, quelle poche persone più presenti si sentono per così disfaventate. Non lo rinforzano, noi non abbiamo nessuna discussione della salute dei cittadini di Corsano, quella che stava guardata, insomma, io vi sospetto. Questa immagine adesso verrà vingolato, verrà reso, verrà reso tale che dovrà avere, come noi richiediamo ad AFFA, la miglior tecnologia possibile. Non è una questione di costi, non è una questione di tecnologia, è una tecnologia. Ma qual è la tecnologia? La tecnologia? Insomma, volete lasciar panare l'elettro del popolo? Non c'è niente. Non lo sapete, non lo sapete. Adoro, per favore, è fuori il discorso. Alla tecnologia? Questa non è la questione di energia, ci ha parlare chi ha vinto regolari elezioni. Si è andato a farlo, sicuramente. Allora, per favore, esito, una miglior e una maggior tutela per la pubblica salute. Si aggiungono tutti i nostri mandati. Allora, la nostra tutela è una società, non è solo un'altra. Non è un attimo. Facciamo uscire i soldatori. Vigile, tutela i nostri diritti, non i loro. La miglior tecnologia disponibile al momento vicino. Va bene, allora andiamo tutti. Vi lasciamo da soli e fare le vostre scelte. Bravi! Avete metto le elezioni, ma non dovete comportare così. Abbiamo visto come lavora, definiamo i nostri diritti, non dia retta a questa gente. Sono il tutto il capo. E' ignorante perché basta informarsi, ci sono metodi alternativi. Questa è la democrazia. Grazie italiana. Grazie a tutti. potremmo ascoltare un secondo tipo di ragionamento con maggior obiettività e segretà e non devono passare l'attacco su persone per far casino e per confondere le idee. E io e amare, i miei colleghi, che non avessi saputo precedere il contenuto politico di questa nozione. Noi questa sera, noi qui battiamo i punti dei confronti della provincia e della regione, non siamo schiacciati, scomitiamo e diciamo, bravo con me, devi dare il titolo dei miei colleghi, ma i sogni che non vengono incidibili, sarà un'ecsignata rosa, che credibilità tutto lei, perché il titolo, poi sta fatto, che credibilità tutto, perché invece non è stata scontata la provincia, ma la provincia deve mettere l'ambilante di un po' di euro, perché San Tiago non firmerebbe ancora la convinzione, e questo non è quello che potrebbe dire, non firmerebbe ancora la convinzione, se non avrebbero nasc concerning dio esimosto dal Protestantismo ad oceanals, papà di un naref, che non 예뻐 dal sinistro. Padra venire! 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 Non sprecare присvolto da non ci sono libido grazie, ma le ci sono tantissimeаль di es locals, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.